Sapevi che il russare non è solo un fastidioso rumore notturno, ma un segnale di problemi di salute seri? Uno studio australiano ha monitorato 12.287 partecipanti, controllando il russare ogni notte per sei mesi con sensori sotto il materasso e misurando la pressione arteriosa, durante la giornata. I risultati sono chiari, il russare regolare è fortemente associato all'aumento della pressione arteriosa. Anche la variabilità notturna degli eventi legati all'apnea del sonno è stata esaminata per valutare la gravità di questi disturbi. Esistono soluzioni terapeutiche per ridurre il russare che possono migliorare la salute cardiovascolare e diminuire il rischio di ipertensione. Dispositivi a pressione positiva continua e ortesi di avanzamento mandibolare sono utili nella gestione dell'ipertensione. Il russare è spesso legato alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, che comporta interruzioni della respirazione, diminuzioni di ossigeno nel sangue e micro risvegli. Questi fattori sono associati a ipertensione, malattie cardiache e diabete. Prenditi cura della tua salute. Se russi regolarmente, consulta un medico. Palazzo